E così vediamo l'intervista a il vincitore di gara 2 di questo New York E-Prix di Formula E. Jeb, sei partito determinatissimo, hai detto per te stesso passo da destra o da sinistra ma lo sorpasso prima della prima curva a Boemi, è stato così? Non lo sapevo che vado a passare a Boemi alla partenza ma ho avuto una bella partenza e ho avuto l'opportunità di passarlo, comunque l'ho fatto direttamente. Da lì hai controllato tutto senza grandi problemi? E' stata una gara difficile perché le Audi sono molto veloci e ho avuto a fare un buon lavoro con l'energia per difendere in caso di Grassi fu troppo veloce. Ieri abbiamo detto magari vincevi tu il campionato e Francia vinceva il campionato, è stato così? Si, è stato un grande weekend per noi, un grande weekend per Francia e sono molto molto felice di essere francese oggi. Meritatissimo campione, ciao. Grazie.